Buonasera a tutti ragazzi, oggi ci troviamo a parlare di Alessandro Niamateca, che stai mattini abbiamo il concerto di quattro campani, che adesso ascoltano sempre di 18 punto, qui fra un tempo lo faccio vedere, là c'è il campanone, questa è la mezzana, la c'è un'altra mezzana, questa è la piccola, qua ascoltano, batti verso il campanone e porta distesa le due campane, e quindi presto andrò a do Campana Milotto, buonascolto a tutti, ciao! Eppure 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.